Ciao ragazzi a questo nuovo video dove oggi giocheremo a Bluestars e cercheremo ad arrivare ai 5000 coppe come potete vedere sono arrivato a 4000 coppe e ci sono i blurrer tipo come B, Tic e anche Leon l'ho trovato in una cassa che ho comprato nel negozio qui ci andiamo a potenziare Tic e proveremo ad arrivare ai 5000 coppe e sbloccare la mega cassa mettiamo sopravvivenza in due quello blurrer potrei usare ecco stiamo con un bo ok speriamo che ci va bene oh ma che è non c'è nessuno robot cavolo cavolo no no la voce vai non adesso dai non non no 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 vabbè terzo posto proviamo proviamo a usare ancora ecco 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 stiamo con Piper con la principessa beh Attenzione a quel Brock Stanno la setta qua però Non voglio rischiare Ecco No il robot è il robot La principessa è morta Ok il robot Non viene da noi Bo Cavolo Però è morto Stiamo ancora in cinque team Come può essere Piper con il primo Di sotto Attenzione aia Un altro colpo è morto Però ho usato l'ult in tempo Scappa Scappa Cinque Quattro Tre Due Uno Ritorno Ritorno Morete Aiuto Quarto posto Beh Non è andato tanto bene Forse Tic non è la migliore delle idee Proviamo a usare Tipo Non saprei Non saprei E' il primo Ecco Proviamo adesso Stiamo con un bull Ok Rosa Io la lascerei stare Bull Robot Robot Bull dove va E' impazzito Lo buttiamo velocemente giù Il robot A un power up Siamo andati a quattro Aia Prendi quel car Leone è diventato Invisibile Dove va Bull E vabbè Abbiamo perso No Forse no Mor Aia Scappa 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 Leone è diventato Invisibile Vai ritorna Aia Vai bull Aiuto Au Cavolo Siamo circondati Bravo bull Cavolo Attenzione A rosa Vabbè Rosa è morta Aia Grande bull Grande Mamma mia Mamma mia Diciassette Power up Proviamo ancora con il primo Stiamo con un franco Stiamo con un franco Bull e shelly Mi spaventano un pochino Robot Power up Power up per noi E dov'è Dove è rosa Eccola Eccola là Ma che voglio fare Frank Quello il robot Lo vede Anche se sta nascosto Nel cespul Veloce Scappa Grande Adesso vai a inseguire Loro Sono stato un pochino Stupido A lanciarmi Grande Muoio No Non è vero Power up Scappo Frank A 15 Power up Se vabbè Abbiamo Stravinto E' finito Quel bull Pam Vittoria Adesso voglio provare A farla In singolo Vediamo cosa ne esce Con il primo Sopravvivenza In singolo Vediamo Un po' Ok Non c'è nessuno Eh Perché io parlo Aia Due spune No 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 Eh vabbè Muovate Sto Viene da me Lo ammazzo facilmente Però se mi viene Qualcuno Contro Vado a finire Che muoio Eh Ecco Te pareva Non so Non va bene Lasciami stare Bull Basta Sta uno spike Là Ecco Bibilla Secondo me Secondo me Bull Muore Bibi Aia 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 Ok Basta Aia Secondo me Sono morto Scappo Se vabbè Scegli con dieci power up E quella di prima Eh Ho perso Quarto posto Se Però Più cinque Buono Proviamo ancora Con il primo Scegli in basso Basta Basta Posso ammazzare Corvo Facilmente Però se questa Scegli Mi lascia in pace Ma che sta facendo Quel primo Ma Ha capito Che il primo Ce l'ho A settimo livello A livello set Ecco No L'edizione Maledizione Cavolo Maledetto Bull Meno Cinque No No Riproviamoci Però almeno Mi porto avanti Sempre Se non Perdo Prank Con un Power up Mi spaventa Ok Lo lascio stare Nita Con due Pa No 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 Sono tutti Più forti I metri Anni Quegli Scegli E qua Non riesco A ammazzare Nessuno Prendi quel Leon Leon Aia Niente Con un power up Non posso fare niente Posso solo scappare Se vabbè Rosa con 5 power up Cosa devo fare Cosa devo fare Aia Cavolo Cavolo No 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 Maledetto Maledetto Leon No Meno 2 Sì Proviamo Con qualcun Altro Tipo Bull Secondo me Con Bull Ce la faccio Tar Non mi fa niente Di danno 399 Buh Rosso Con un po' Rop No Grazie Prendo questo E me ne vado Frank Basso Vai E anche In seguito Dal robot Povero Buh Mi vuole lanciare La ultima Cioè Ho visto Dove Le ha lanciate Ehi Guarda Che mi vuole Far andare A finire Sulle mine Ancora Ancora Vole La Dara Di prima No Si te cago A tre Vole La Vole La Zuber No 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 A fare No Aiuto No E vado al stesso posto Cavolo E vabbè Stiamo in Nella Tua Trofea Più Sei Mo Voglio Provare A usare Leone Leone Eccolo C'ero Io Leone Non lo so Usare Tanto Bene Con la Super Intendo Che poi Non ha Neanche Niente Di vita Aiuto Però fa Un bel Po Di Stavo ammazzando Quella Rosa Da un altro Leggendario Spike Lotta Tra Leggendari Eccolo 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 No 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 Ho fatto Una Gredina Ma che Non mi ha Pigliato Mai Scusa Ma non mi ha Pre Cosa Mi ha Ucciso Il piccone Di Carlo Che gli è Tornato In Giro Di nuovo Terzo Posto Però Più Sette Più Sette Lo accetto Praticamente Quando Sono andato A Super Però Non mi ha Danneggiato Strano Riproviamo Stavolta Andiamo Primi Sono Sicuro L'ho Detto Allora C'è una Jessie Negli Intorni Eccola Jessie Boh Vieni qua Attenzione A Piper E Mori Ah Finalmente Scappo Quella Piper Log Potrei Usare Adesso La Super E Diventa Invisibile Però Non Voglio Perché Me la Voglio Conservare Lui è Bloccato Perché Sta Sp Sta Piper Da quel Lato E io Da quest'altro Quindi è Finito E affronta No Vuole affrontare Piper Aia E io Devo Pensare Anche A me Ecco a Bu E basta Spike Oh Che ti ho Fatto Mori Mi potrebbe Lanciare La Super Però Non L'ha Fatto Bibi Ma Scontro Finale Io contro Bibi E E qua Quanti Power Up Che Mi In Giro Vai Da Lei No Non Avveni Da Me Che Cavolo Grande Robot Vai Ho detto Vai Da Lei Eh Si è fregata Si è fregata Da sola Vai Vai Robot Vai Yeee Vittoria Si Ne facciamo Un'altra Sempre Con Leon No No Non Adesso Ti prego Non Adesso No Ti prego Basta Essere Gentili Quella Piper Mi Spaventa Perché Con Un colpo Mi Potrebbe Levare Metà Vita Penso Non So Se Ho Detto Una Gritinata Non Voglio Confermare E Sono Tutti Più Forti Di Me Come Ho Schivato Quel Missile Di Brock Non Lo So Eh Si La Signorina Piper Bloccaza E Bene Che Si Mi Leva Metà Vita Con Un colpo Piper No Spike Lasciami Stare Maledetto Spike Ti detesto Cavolo Meno Meno Uno Questa L'ultima Con Leon E Poi Ci Apriamo Due Casse Tanto Non Troverò Nessuno Perché Ho Trovato Leon C'è C'è Sono Stata Veramente Fortuna No E Muoio Muoio Non è Vero Mi ha lasciato Stare Perché Laggava Si Laggava Non mi ha Lasciato Stare Mi sto Salvando Per Miracolo Aia Dovrò La vita Vieni a Cano Au Oh Tutti Stanno Morendo Stanno Facendo Stragi Venne Che Si Oh Cavolo No 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 Stai Lontano Stai Lontano Eh Siamo Morti Siamo E Scemo C'è Non mi ha Preso No 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 Terzo Posto E Vabbè Più Sette E Leone Grado 12 Ottimo Apriamo Apriamoci Due Cassette Ecco No Non Voi qua C'è Beh ragazzi Il video Finisce Qui Lasciate Mi piace Iscrivetevi E Lasciate Un commento Ciao 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 Ciao